L'evasione costa un altro anno di pena. Si allunga al 2030 il periodo detentivo a carico del trentenne algerino recluso nel carcere di Villa Fastigi che lo scorso 27 maggio fu protagonista di una spericolata evasione dalla struttura sanitaria di Viare di Puglia all'ingresso del Parco della Pace. Centro medico dove si trovava per una visita fisioterapica ma dalla quale era riuscita a fuggire con scaltrezza uscendo da una finestra per poi darsi la gambe per mezzo chilometri e infine nascondersi in un capanno per attrezzi agricoli di un'abitazione di via Lucio Accio nel quartiere di Soria. Un riparo quanto mai effimero perché poi fu riacciuffato da carabiniere e polizia meno di un'ora dopo l'evasione grazie al coraggio e all'acume di un agente fuori servizio che ne seguì le mosse e il nascondiglio. Un mese e mezzo dopo, in seguito alla richiesta di rito abbreviato dell'avvocato difensore Giuseppe Briganti, il Tribunale di Pesaro l'ha condannato ad un anno con riconoscimento di vizio parziale di mente e attenuanti generiche. Condanna che dunque aggravia la pena pregressa fino al 2029 per tentato omicidio, violenza sessuale, lesioni e resistenza pubblica ufficiale per reati commessi a Milano.